ciao a tutti benvenuti bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video unboxing in collaborazione con un sito con cui avevo già collaborato un po di tempo fa che si chiama seven great ovviamente nell'info box qui sotto vi lascerò tutti tutti i link utili mi hanno dato anche un codice sconto per voi che sarà 0 6 off che praticamente vi dà il 6 per cento di sconto su tutto quello che volete praticamente e soprattutto è illimitato letto quindi potete usarlo quanto volete nel senso che non ha una validità allora le cose che ho scelto ovviamente questo sito vende soprattutto cose di cross stitch quindi punto croce e come sapete io non faccio punto croce perché non sono capace faccio dei gran pasticci però comunque mi piacciono molto anche solo provare a fare delle cose oppure ho preso delle cose che adesso vedrete che sicuramente quelle riuscirò a farle perché sono semplici e niente non ho l'ora di farvele vedere quindi direi di iniziare subito allora la primissima cosa appunto che ho scelto è stata questo set guardate che carino che allora come vedete sono dei portachiavi in legno con tutti questi forellini ovvero per metterci i fili e diventano dei portachiavi diciamo punto croce ora uno può farli un po come vuole questi e questa cosa mi è piaciuta molto perché anche se non siamo proprio bravi col punto croce come me possiamo divertirci a creare magari qualche disegno a creare delle linee di colore eccetera il set è composto da 5 cuoricini poi ci sono questi aghetti tipo di plastica dietro per appunto andare a metterli e questi colori come fili c'è il verde giallo il blu il rossa il lilla però dopo vi farò vedere che io mi sono portata avanti e ho preso un sacco di fili colorati per fare un sacco di cose carine e quindi questa è la prima cosa che vi faccio vedere e che praticamente ho scelto poi ho voluto scegliere un quadretto allora il quadretto in questione è carino io pensavo fosse più piccolo le misure sono 14 per 15 l'ho preso perché mi piaceva un sacco il disegno poi come sempre non so se riuscirò a farlo perché come gli ho detto io sono un po però guardate che carino che è in pratica c'è questa volpina molto kawaii molto cartoon tipo davvero davvero carina ora vado a vedere cosa c'ha il il set dentro e vediamo com'è allora nel set abbiamo la tela che si è piccolina allora avevo ragione pensavo fosse più grande come diciamo la stampa qua invece è piccolina quindi magari potrei farcela chi lo sa magari potrei farcela ovviamente vedete ha il disegno di questa volpacchiotta e poi come sempre ci sono i fili questi set hanno sempre questi praticamente questi cartoncini con i fili attaccati ogni colore ha un numero e anche qua sulla tela ci sono i colori e sotto i numeri scritti vedete qua sotto carini molto carini mi piace molto il punto croce mi piace molto lavorare con i fili anche non solo con resina cordini e perline insomma mi piace anche il mondo del filo però non sono ancora molto avvezza ma mai direi mai quindi questo era quello che conteneva il il set non ci sono gli aghi se non sbaglio vorrei dire una che vedete qua abbiamo abbiamo anche il il disegno in grande proprio ecco io pensavo fosse grande così quando l'ho visto detto mi si è enorme invece è un po più piccolino no non mi pare che ci siano ah sì scusate non li avevo visti sono appiccicati qua gli aghetti quindi è proprio un set completo quando andate a prendere questi set sapete che c'è tutto dentro i fili l'ago la tela il disegno e le istruzioni ora passo all'ultimo pacchettino guardate quanti colori meravigliosi mi sono fatta arrivare sono 50 stolette di fili e sono stupendi sono tutti tutti i colori che uno può immaginare e quando li ho visti ho detto li voglio avere perché come sapete io faccio anche i braccialetti con questi fili mi piace molto in più vorrei anche magari imparare a farne di un po più diversi un po più particolari e avere tanti colori è sempre una cosa bella perché ti puoi sbizzarrire adesso vi faccio vi dico così quelli che vedo allora ci sono tantissimi tipi di verde il nero l'arancione il blu il giallo l'arancione quasi fluo un altro tipo di verde chiaro rosa fucsia azzurro bianco rosso viola rosso più scuro rosa marrone un altro viola un pochino più scuro un po diverso un verde molto bello un giallo pallido insomma sono tantissimi colori e sono veramente molto belli molto molto belli guardate quanti colori è bello avere tanta scelta anche proprio per questo motivo così almeno potete fare tante cose per esempio anche con i portachiavi qua se non volete usare solo questi colori scegliete i colori che più vi piacciono con queste matassine di filo bene ragazzi il video finisce qua questo era un unboxing abbastanza veloce vi ricordo il codice sconto sarah06off sempre valido su penso qualsiasi acquisto qualsiasi importo andate a dare un'occhiata a questo sito che io ve lo lascio giù nei commenti e vi lascio anche il link delle cose che ho preso ci sono tantissimi quadri carini che sicuramente chi fa punto croce o comunque le piace proprio una passione potrà trovare il suo quadro preferito perché ci sono tantissime categorie c'è la disney i paesaggi gli animali personaggi anche tipo le principesse disney come avete visto i cartoni cartoon cose tipo da cucina quindi anche cose da mangiare insomma da bere bellissimo veramente fatto molto bene e niente io ringrazio molto il sito per avermi dato questa nuova opportunità di collaborazione sempre molto gentili il pacco è arrivato anche velocissimo e niente io vi saluto vi invito a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti lasciarvi un bel commento e condividere il video che così mi aiutate a pubblicizzare un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao